Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Alberto Matano, volto noto della televisione italiana, amato e seguito da milioni di telespettatori ogni giorno attraverso la vita in diretta e altre trasmissioni Rai. Tuttavia, dietro il suo sorriso radioso e la professionalità ineccepibile, si cela un legame speciale e profondo con una donna straordinaria, la sua madre, Marisa Faga. Poco noto al grande pubblico, questo connubio familiare nasconde storie di passione, insegnamento e valori condivisi. Marisa Faga, non solo madre ma anche mentore, ha lasciato un segno indelebile nella comunità grazie al suo impegno politico e alla sua carriera di insegnante. La sua vita, costellata di battaglie per l'integrità e la determinazione, ha ispirato non solo il figlio, ma anche chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Ora in pensione, Marisa conserva un fascino e una fama che trascendono i confini della politica, mantenendosi una figura di riferimento. La loro relazione va oltre il vincolo madre-figlio, arricchendosi di momenti condivisi, viaggi e celebrazioni, immortalati nei social da Matano, che non esita a definire la madre più famosa di lui. Questa dichiarazione, lontana dall'essere una semplice battuta, sottolinea l'ammirazione e il profondo rispetto che Alberto nutre per Marisa, considerandola un pilastro fondamentale della sua vita e della sua crescita personale e professionale. Le parole di Marisa Faga, rivelate in un'intervista esclusiva a Vanity Fair, gettano luce su un aspetto inedito di Alberto. Un uomo sensibile, un giornalista partecipe del dolore altrui, educato ai valori dell'uguaglianza e del rispetto, lontano dalle accuse di maschilismo ingiustamente rivolte. La madre racconta anche del coraggio e della forza d'animo del figlio, vittima di bullismo a scuola, sottolineando come le avversità siano state occasione di crescita e apprendimento. La storia di Alberto Matano e Marisa Faga è un inno all'amore familiare, un esempio di come i valori trasmessi possano diventare le fondamenta su cui costruire non solo una carriera di successo, ma anche un'esistenza ricca di significato. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie